Grazie Presidente, io intendo con il mio intervento illustrare tutti gli emendamenti che vanno dal 7 all'11, sono praticamente degli emendamenti a saldo zero che per mutate esigenze nel municipio quarto vengono rimessi nel sociale, principalmente nella voce dell'assistenza ai minori, quindi il SISMIF, ma anche nei progetti sociali e i progetti sociali per inciso sono quelli, la guettazione è prevista nel piano sociale municipale e ripeto, era stato previsto di toglierli e metterli su prestazioni professionali varie, ma per mutate esigenze successive vengono ripristinati sia sull'area minori che sull'area dei progetti sociali. Sono degli spostamenti, ripeto, a saldo zero, a saldo invariato, che però consentiranno al municipio di poter portare avanti delle progettualità molto importanti e soprattutto un'attenzione per i minori, quelli che dovrebbero essere alloggiati in casa e famiglia. Io ho terminato, Presidente.